carissimi amici del canale youtube dentro la notizia trump ha già vinto 14 cause concernenti le elezioni del 2020 ma questo ovviamente non lo sentirete dire dai media mainstream sentirete solo dire che trump ha perso tutte le cause che non ci sono prove di brogli che biden è stato il presidente americano più votato di tutti i tempi alcuni crederanno alle tv e ai giornaloni è più facile non usi la tua testa ma quella degli altri sei trend lì non vai contro corrente fai meno fatica c'è chi invece ha deciso di indagare a fondo sull'esito delle 80 cause promosse da vari legali che sostengono l'irregolarità delle elezioni presidenziali del 3 novembre tra coloro che hanno scavato nei meandri della giustizia vi è il fisico john drotz che ha riunito un team di colleghi scienziati e ingegneri tutti volontari per esaminare da vicino le cause intentate che sono tutte una questione di pubblico dominio e per riassumere i risultati non è stato un compito facile dal momento che sono state presentate come dicevamo poco fa 80 cause legali da parte di trump o per suo conto e ciascuna di queste cause è composta da dozzine di pagine di archiviazione e decisioni il rapporto di sintesi intitolato cause per le elezioni presidenziali del 2020 relative all'integrità elettorale riferisce che delle 80 cause legali totali 34 sono state ritirate consolidate con altre cause o archiviate a motivo di tecnicismi legali come mancanza di legittimazione tempistica o giurisdizione quei giudici che hanno archiviato le cause non hanno mai ascoltato né tantomeno valutato le prove effettive di irregolarità elettorali e o frodi poiché non hanno permesso che fossero presentate nelle loro aule di tribunale tali casi non possono essere considerati una sconfitta per trump semmai sono la prova di quanto sia potente il deep state lo stato profondo delle 46 cause restanti 25 sono ancora in corso quindi il vincitore e il perdente di questi casi è ancora da determinare mentre 21 si sono concluse andando a giudizio si tratta di casi in cui il tribunale ha ascoltato le argomentazioni preso in considerazione qualsiasi prova pertinente e quindi ha emesso una decisione formale sul merito credo che molti sarebbero sorpresi di apprendere che di questi 21 casi trump ne ha vinti ben 14 e persi 7 come dicevamo all'inizio di questo video in altre parole trump ha vinto i due terzi dei casi fino ad oggi giudicati dai tribunali ma non aspettatevi di sentirlo dire in tv né che lo scrivano i giornaloni dell'elite john droz osserva che nonostante le diffuse accuse di massicce frodi elettorali solo tre di queste cause si sono occupate materialmente di illegalità degli elettori cittadini che hanno votato due volte voti di persone decedute eccetera è interessante notare che tutti e tre questi casi sono ancora aperti inoltre solo tre cause legali vertevano sulle irregolarità delle macchine per il voto intenzionali o accidentali che siano una di queste è stata respinta a motivo della giurisdizione una si è conclusa con una condanna e un'altra è ancora aperta la probabile spiegazione per così pochi casi in queste due aree è che la dimostrazione legale di frodi o manipolazione delle macchine per il voto sono processi che richiedono molto tempo che richiedono un lavoro investigativo e una documentazione sostanziale che ci siano dei difetti nelle macchine per il voto e che causino dei risultati elettorali difformi dalla volontà popolare non lo dicono solo gli amici di trump ma anche l'ex procuratore di hillary clinton mark elias che ha condotto gli sforzi del partito democratico nelle elezioni del 2020 per costringere i tribunali a modificare le regole e le procedure elettorali negli stati chiave del campo di battaglia da settimane i repubblicani pro trump sostengono che le macchine per il voto utilizzate nelle elezioni del 2020 sono difettose e nella migliore delle ipotesi inaffidabili e che ci sono molte prove a sostegno di questo all'inizio di questa settimana incredibilmente mark elias il principale avvocato per le elezioni democratiche era d'accordo vediamo i motivi claudia tini è stata dichiarata vincitrice nel 22esimo distretto del congresso di new york questa settimana sconfiggendo il deputato di sinistra anthony brindisi per 125 voti in un atto legale per conto di brindisi mark elias ha contestato le difettose macchine per il voto per la perdita del parlamentare democratico elias ha scritto in questo caso c'è motivo di credere che le macchine per la tabulazione del voto abbiano letto male centinaia se non migliaia di voti validi sottostimandoli e che questi errori della macchina per la tabulazione abbiano penalizzato in modo sproporzionato brindisi inoltre la contea di oswigo ha ammesso in una dichiarazione giurata dinanzi alla corte che le sue macchine di tabulazione non erano state testate calibrate nei giorni precedenti le elezioni generali del 3 novembre 2020 come richiesto dalla legge statale e necessario per garantire che i conteggi generati dalla tabulazione delle macchine fossero accurati questa è stata un'ammissione sbalorditiva da parte del massimo avvocato democratico alla luce di quanto detto desta particolare attenzione la corte suprema degli stati uniti che venerdì ha programmato diverse cause elettorali di alto profilo comprese quelle promosse dagli avvocati sidney powell e lynn wood e dalla campagna di trump da esaminare nella conferenza del 19 febbraio l'elenco delle cause include il caso michigan di sidney powell 2815 la causa della campagna di trump in pennsylvania 2845 e quella del wisconsin 2882 la causa della pennsylvania promossa dal rappresentante mike kelly 2810 e il caso georgia di lynn wood 2799 tutti i casi denunciano una qualche forma di condotta elettorale illegale che influisce sul risultato delle elezioni inclusa l'espansione del voto per corrispondenza da parte dei funzionali elettorali che hanno modificato le regole in violazione delle leggi elettorali statali la mancanza di adeguate misure di sicurezza riguardo le schede elettorali problemi con la tabulazione del voto automatico e la negazione di un accesso significativo agli osservatori delle elezioni vedete non tutti i giudici sono corruttibili vuoi a motivo del loro dna vuoi per la loro coscienza o per gli elevati valori morali ma fortunatamente vi sono ancora uomini e donne che non si vendono allo stato profondo e più sono maggiormente sarà difficile metterli a tacere e questo vale per le persone di tutti i popoli italiani compresi uniti si vince se si hanno dei valori prima di concludere volevo ringraziare la kiani life di ferrari massimo che in collaborazione con la h price porta in italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese masaru emoto e del dottor willem reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di h2o e il robustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la kiani life quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby